Guarda che si è il culo. Ah, aspetta. Oddio. Oggi. Questa è la censura, è la censura, ragazzi. La censura. Lo sei sicuro? Sì. Ok, ragazzi, inizia la maratona per vedere quanto tempo impiega ad alzarsi. Partite col timer. E con le mani, con le mani. Occhio. Ti lo metto qua sotto qua? Vai. Qua? Vai. No, più verso l'esterno. Ho questo. No, io lo metterai dietro. Lo metterai dietro proprio. Eh no, dì, sta da gitto quella cosa. Ah, ok, allora lascio lì. Lo alterare così? Sì. Eh no, dì, c'ho il brigatto. Mette così. No. Vedi? Eh ma così i cavi ci arrivano? Sì. Ma poi te li tieni sotto... Eh no, perché qua sta, vede, sta la retina. Vedete o l'invito qua? Va bene. C'è qualcosa qua dietro? Eh no, ragazzi, non si potevano far vedere. Ma l'avvitatore? Ma che cazzo è sta roba? Ma sei scemo? Vabbè, fa tutto lui. Vabbè, fa tutto lui fa. Ok, c'è un'invito dura. Eh, io devo fare le riprese, Giannale. Non è che posso fare tutto. Poi dicono, metti le mani davanti. Non voglio vedere le mani. Cosa c'è? Oh, hai legato tutte le viti addosso. Oh. Oh, c'è un po' più qua. Non c'è arrivo là con la macchina. Gia, se me lo mantenesti, cazzo, no? Pure? Ma sto tenendo il cellulare. Come faccio a mantenere? Come ci la faccio a mantenere? Ok, mettiti così. Aspetta un attimo. No, Ciccio, no. No, no. Ok, così. Fermati, fermati. Ok, Ciccio, fermati. E dove cazzo devo andare, Giannale? No, fermati, fermati. Aspetta che devo manipilare. Aspetta, Ciccio. Piano, piano. Oh. Io sono ferma, eh. Non riesco a mettere la piastra. No. No, Giannale. Ma quelle sono viti da legno? La cazzo ce ne sono. Ok. Ok? No, no. Non hai attaccato? Non hai attaccato? Stavo svitando, porco Dio. Vabbè. Aspetta, vabbè. Aspetta, Ciccio, porco Dio, del coglione. Aspetta, ho detto un altro video. Non so che coglione, non so. Aspetta, c'è, io non ci credo. Veramente io non ho parole, è meglio che non... Aspetta. È meglio che io non le ha. Ciccio. Aspetta. Ma l'hai svitato, Giannale? Allora. Allora. Oddio, ciao! Oh, mio Dio. Ah. Ah, che fatica. Ah, era così complicato, tu? Mamma mia. Che fatica, ho. Breve ma intenso. No, Mark. Fortunatamente, no. Occuperò io la stanza. È legno in bocca, mi sarebbe. Eh? È legno in bocca. Occhio. Oh, due giocondengo, no? Eh. Perché questo è legno pieno. Pia è quella, pia è quella che è già fuori. Dove? Lì, lì a fianco. A fianco del contenitore. Dall'altro lato, Giannale. Ecco, ancora un po'. Eh? Lì, né un'altra e sotto, né un'altra ancora. Sotto a quello. Eh, qua devi mettere a forza, Drey. Tre. Quattro, ne devi mettere gli angoli. Io una volta avevo un cellulare. Oh. Oh, cazzo. Oh, ci ho fatto qua sotto, ci sta, sai? Perché non l'ho fatto prima? Ah, me lo chiedo. Eh, bravo, lì. L'hai toccata? Eccola lì? Ce l'hai sotto il palmo? Quello. No? Basta! Vedi nel parchetto, spaccio cocaina. Naccio cula. Mannaggia, la cartarella. Quattro mesi con voi, maestro, faccina con occhi a cuore. Eh, ma genna... Porco Dio, zonata sei fuori, non devo urlare. Io come vedo i nomi di chi ti ha fatto queste cose, così te li dico. Eh, me lo so. Ah, ok, post. Ma giù, se li devo spostare, ciccio. Ma è qua che mi alzano. Sì, Sky, io pure, ve lo guardo. Grazie, c'è tutto il culo da fuori. Aspetta, la censura? Aspetta. Sto censurando? Aspetta, la censura. Vabbè. Ho fatto un'altra vita, percorso. Al momento, dimmelo un po' quando ti alzi, eh. Basta! Vedi nel parchetto, spaccio cocaina. Naccio cula. Mannaggia, la cartarella. Ti lupo. Ok. Censuro? Devi prendere fiato? Non so, faccio passare il cavo, capito? Quale cavo? Questo. Ah. Ah, l'altra ciabatta bianca, dove la mettiamo? Dove la messo a una parte. Ah, colleghiamo questa la corrente? Eh sì. Quante cazzo di ciabatta vuoi mettere? Cazzo, è un genio. Figa. Ah, 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 ah. Sei un genio. Eh, boh. E eliminiamo quella, allora? Eh sì. Cazzo. Figa. È vero, eh, eliminiamo. Una trovata pazzesca, proprio. Vedi, si è diventato pure così, eh? Eh. Ok, questo allora è una corrente. Anni, anni di studio. Cazzo, potevo andare là dietro? Eh sì. Porco diaz. Figa. Riprendi, Ciccio. Eh? Riprendi, perché non posso potremmo ritornare più. Eh, bravo, rimani così, però, non ti girare. A posto. Grazie, vedi, Bitto, bello. A posto. Ok. Ciao, Dino. Cazzo che ci vediamo la prossima settimana? No, 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 no. Ok, non ho capito cosa... AAAAAH! Non vedi il buco. Eh, ho capito, se non vedi il buco è un problema. AAAAAH! Ecco qua. Ok, bravo. È infilato. Bravo. Adesso rimani lì. Aspetta, lascia. Aspetta. Devo accendere? A chi? La ciabatta? No, boh, accendiamo. Ah, devi attaccare lo switch a tutto. Allora, attacchiamo un attimo. Questa è la switch? Ok. L'alimentatore? Eh, ma è attaccata la ciabatta, scusa. Eh, lo so. Eh, ok. Togliamo qua. È quella, sì. Riccate in faccia? Sì. Va bene. Oh, il bicchiere di caffè, Genna. Stai così, Genna. Aspetta che lo tolgo. Genna, fermo. Minchia, guarda come è in bilico. Fermo che lo sto togliendo. Aspetta, aspetta, ok. Aspetta. Ok, a posto l'ho tolto. Vai, vai tranquillo. Puoi fare quello che puoi. Oddio! L'ho tolto, lo tolto. Ciao, ma sono un coglione mio che ti credo pure. No, no, però c'è veramente. Aspetta. Ok, togli questa ciabatta, Ciccio. Pigliatele. Sono seduto adesso. Non lo vedo. Oh, che cazzo è fatto male. Vai. Allora, questo colleghiamo? La switch, a Ciccio. Ok. Allora, lo mettiamo qua nell'angolo, che dici? Lo mettiamo qua, Ciccio. Allora. Puoi metterlo lì sotto, secondo me. Sotto? Sotto, 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 lì. Così? No, c'è una lì sotto lo scaffale, lì. No, l'ho messo qua sotto, Ciccio. Ah, boh, metterlo lì, vabbè. Aspetta che cerco un attimo il mio telefono. Ma sta a sto cazzo di cavo bianco, che cazzo è? Eh, certo. Questo, 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 quest'altro, questo. Allora. 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 lo switch è acceso? buh colgo questo che cosa è ok colgo questo che non sa cosa è che non si infilo quella cosa è la tv penso che si la metti ecco è acceso? figa non si vede un cavo non si vede un cavo più o meno uno si deve affacciare no? si forse si può fare non ci puoi mettere una fasciata? no vabbè dopo le metto ho finito no non fare queste cose un attimo con la censura la faccia di un uomo distrutto è stato un parto e com'è stato? genna c'è qualcosa in fronte? tipo un pezzo di legno ah chi mi ha fatto fa? tu stasso ah lo coglione eh no mi collego tutti i monitor pure io guardo eh non sto qua sotto questo danino no? boh se vuoi riposarti lì sotto puoi rimanere non è un problema nessuno ti giudica tipo che tappetino? qual? ma secondo te quello fa qualcosa? no no secondo me no ma perchè devi stare lì sotto ancora? devo collegare i monitor ah ok eh tu mi hai detto ah ok ok vabbè ci voleva tipo lo skate mettevi sopra lo skateboard e facevi avanti allora ci... oh dim ci sono dei cavi qua sopra? è pieno di cavi questa alimentazione? è pieno si sono tutte quasi tutte tranne un hdmi eh devo collegare no? si accende uno si accende uno si acceso? si ok ah questo no? questo cos'è? un cavo fermo hdmi ok questo l'ho preso? l'ho preso? l'ho preso? lo vedo un cavo di corrente che cazzo fai? io frate? l'ho preso si? l'ho preso? l'ho preso? l'ho preso? l'ho preso? ma tu dici che non ci stanno i moderatori in chat perché se c'è qualcuno che ancora il cervello non l'ho messo in moto ma io posso bannare da qua e come cazzo vabbè io mi segno il nome di sto babbo qui grande rap no ma non è vero lo leggo ancora io lo leggo raf ciao andrea ma che si chiamava sto pollo fox 87 che ci saluta ok a posto allora allora genna ti saluta andrea poi ghost cosa che fefco dice che ti vuole bene babbo letale dice che ti saluta da casoria ok geppettino grazie per le conferme perché io qua lo continuavo a leggere si uno ok l'opoldo ti mando un bacio allora ma le spengono ok vedi quale sta accendo tutti uno e due due si sono accesi quali si sono accesi due quali al centro poi c'è l'opoldo qua si l'ultimo di qua di lano no ti saluta anche acti plus Ciao Anunzio, ti saluta Idenia, ti saluta Torero, ti saluta Peppinus, ti saluta Woman Social, ti saluta Francesco Migliore da Pesco Pagano, Kratos dice che non è vero. Ma dove sta quest'altro cavo, ciccio? Eh, eh, ti saluta da Cerro, ti saluta da Cesare, sto leggendo i commenti Gennac, che cavo stai cercando? Alimentazione, alimentazione, un attimo adesso torno a leggere, eh ma non lo trovi per forza, l'hai staccato, forza come? Eh, basta, vedi nel parchetto spazio cocai, Ciao Genn, ma che combini? Ok, attraverso Ciao Genn, che combini? Quindi questo Devo, devi passare qua sotto Minchia, aspetta che ho perso un botto di cose qua da leggere Cosa? Danny ti saluta Danny ti saluta, ciao Danny Ti saluta anche Manon Demun Cesare Si Ok Ma da me ci voleva forza un'altra parte qua sotto, ciccio Hai visto? Hai visto? Non sai? Ti saluta ufficiale da Sanremo Ma questi poi, che sistema dopo? Quindi colleghavano tutti cavi l'alimentazione? No woman, non era meglio che lo facevo io perché a una certa età Che cosa? In questi lavori Basta Vedi nel parchetto spazio cocai Naccio cula Mannaggia La cartarella Come devi mettere, no? Come devi mettere come devi mettere, giusto? Cioè nel senso che devi mettere tu come devi metterle Eh Direi che così fa una piegata di vero Goddio Guarda la faccia di un occhio Straziato dalla fatica e dal sudore Com'è Gennaro? Forse il peggio è stato fatto Forse Io non penso Perché tipo il GoXLR ancora è da collegare No vabbè dico Però l'alimentazione è quella che cazzo E quello era un cavo da collegare Io ci ho collegato già sette cavi Eh ho capito ma solo di corrente sono Il GoXLR è più sbatti Eh so Eh Antonello magari a trovare una 3080 a prezzo Ma ora l'alimentatore del GoXLR qual è? Ma ora l'alimentatore del GoXLR è... Perchè? Ma quello è lì? Quale? Quello? Quello? Cosa? Il coso di farlo? Ma dove è quello? Il coso dello scappare